Agili saltatori Come sono carine e simpatiche le gazzelle. A loro piace vivere in branco, come a Kukama e i suoi amici. Quando sono insieme si sentono al sicuro e felici. Basta che una di loro lanci un segnale di pericolo che tutte si mettono a correre e saltare. Le gazzelle sono quasi veloci come i chepardi e possono fare salti quasi come i canguri. Come sono? Sono Kukama, una gazzella maschio un po' paurosa. Ho il corpo adatto a correre per scappare dai chepardi e dai leoni. Sembro magro e debole, ma quando inizio a correre non c'è nulla che mi possa fermare. Scontro di corna Anche se di solito andiamo d'accordo, le gazzelle maschie a volte besticciano fra di loro. E allora facciamo una lotta di corna. Che spettacolo! Scontriamo le nostre corna per vedere chi dei due è il più forte. Sono lotti affascinanti che lasciano sempre i visitatori dello zoo a bocca aperta. I miei vicini E' un gran giocherellone. Sa fare delle smorfie divertentissime e alzare il pollice quando va tutto bene. A rara passerebbe la giornata a raccontare tutte le avventure che ha vissuto, e sono tante. Ma tutto questo bla bla mi stanca. Le are possono vivere 50 anni. Devo andare. Quando arriva il caldo, la femmina di lama Karwa non è molto contenta. Con tutta quella lana che le ricopre il corpo non mi stupisce. Ehi Paola, devi dosarla, così starà più al fresco. Giocattoli per tutte Mi piace molto vedere giocare le gazzelle. Per questo, cerco di portare loro sempre qualche giocattolo divertente, perché stiano bene. Ma ovviamente una gazzella non saprebbe che farsene di un peluche o di un treno elettrico. Loro hanno bisogno di altri tipi di giochi. Come palle fatte di rami da lanciare in aria, tappetini di vimini attaccati agli alberi per sfregarsi le corna, o ancora palle con diversi odori da annusare e colpire con le zampe. E' bene che le gazzelle facciano qualche sforzo per conquistarsi il pranzo, così si mantengono in forma. Io leggo per loro dei piccoli rami a un palo, così sono costretti ad alzarsi sulle zampe posteriori se vogliono mangiarne le foglie. Raggi X per Kukama Questa mattina ho notato che Kukama zoppicava un po' sulla zampa posteriore destra, e per essere sicuro che stesse bene, ho fatto una radiografia. E' come una fotografia delle ossa. Ho scoperto così che ha preso un leggero colpo. Meno male che non è grave, qualche giorno di riposo e tutto andrà a posto. E' importante controllare le zampe delle gazzelle ogni tanto, sia dei cuccioli sia degli adulti. Facendo tutti quei salti potrebbero rovinarsi le articolazioni. Concorso di salti Oggi abbiamo organizzato una gara di salta ostacoli. Credo di poterla vincere. Noi gazzelle possiamo saltare fino a 3 metri. Tutti i miei amici fanno il tifo per me. Abbiamo invitato il canguro e il cavallo, anche loro due grandi saltatori. Pronti, partenza, via! Accipicchia Non ho potuto vincere contro il canguro. E' veramente un campione. Ma anche un secondo posto non è male, vero? Le più eleganti Noi gazzelle ci muoviamo sempre in branco. Mangiamo erba e siamo veloci. Ti basterà un'occhiata per vedere che siamo gli animali più eleganti della savana. Gazzella di Thomson Il nome deriva da quello dell'esploratore Joseph Thomson. E' stato lui a scoprirci tanti anni fa. Io sono una di queste. Gazzella di Grand Mi assomiglia ma è molto più grande di me. Può passare diversi mesi senza bere acqua. Le basta quella contenuta nell'erba che mangia. Gazzella d'Ama Ne rimangono poche in Africa, il luogo dove vivono. Per questo molti zole accolgono per curarle ed evitare che scompaiano. Gazzella giraffa Dal suo nome avrai già capito che ha un collo lunghissimo. Questo le serve per raggiungere le foglie più alte degli alberi. Quelle a cui le altre gazzelle non riescono ad arrivare. Dove viviamo? Le gazzelle e le zebbre vivono insieme nella savana. E a loro piace mangiare erba e stoppie. A volte finiamo tutto. Quindi dobbiamo percorrere lunghi tragitti in cerca di altra erba fresca. Quando un ghepardo mi guarda, non vede un animale ma il suo pranzo. Per questo dobbiamo stare sempre allerta, nel caso se ne presenti uno. Alcune gazzelle vivono in India, in Pakistan e in Iran. In questi posti si possono trovare anche i cobra, dei serpenti pelenosi molto pericolosi. In Africa vive anche il fagocero. Assomiglia a un cinghiale, con la testa molto grande piena di verrughe e due corna. Si rotola nell'argilla per rinfrescarsi e proteggersi dagli insetti. La storia di Memba e la nuvola Salim Nel deserto africano fa sempre molto caldo. Il sole stava scaldando tutto e se ne andava soddisfatto per il cielo. Qui comando io, dicevo orgoglioso. Nessuno si azzardava a contraddirlo. Solo una nuvola di nome Salim lo derideva ogni tanto. Sole, sei un prepotente. Non scaldare troppo o scioglierai le pietre. Salim, vattene in un altro posto, le rispondeva il sole. Non so cosa ci fai qui. Nel deserto nessuno ha bisogno di te. Salim sapeva che il sole aveva ragione. Lì non serviva a nessuno. Ma le piaceva attraversare il deserto ogni tanto. Un giorno, vide qualcuno che attirò la sua attenzione. E invece di andarsene, restò. Era una mamma gazzella che aveva appena avuto un cucciolo. Ciao Memba, benvenuta al mondo, diceva la mamma gazzella a sua figlia. La piccola gazzella era sdraiata a terra. E all'udire la voce di sua madre, le venne una voglia irrefrenabile di muoversi. Allungò una zampa anteriore, poi l'altra, e cercò di alzarsi. Ma niente da fare. Uff, si fa troppa fatica, si lamentò Memba. Provaci un'altra volta, insistette la mamma. La gazzella provò, ma il sole era molto alto, e il caldo non aiutava proprio. Che caldo, non riesco quasi a respirare, rispose Memba. Sua madre la leccava per pulirle il pelo e cercare di rinfrescarla. Salim, la nuvola, ne approfittò per chiedere al sole un piccolo favore. Dai, spegniti un po', o Memba non riuscirà ad alzarsi. Ma cosa dici? Io sono il sole e devo riscaldare. La nuvola, arrabbiata, approfittò del fatto che aveva iniziato ad alzarsi un leggero venticello e volò fino a posizionarsi davanti al sole. Ehi, che fai? Mi stai coprendo? Si lamentò il sole. Grazie a Salim, il sole non scaldava più tanto. La madre di Memba se ne rese conto e disse alla figlia. Forza, Memba, provaci di nuovo. La cucciola, allora, allungò le zampe anteriori. Adesso sembrava sostenersi meglio, e quindi provò ad allungare anche quelle posteriori. A poco a poco sollevò il corpo, che tremava dallo sforzo. Sua madre la guardava incantata, e Salim dal cielo sorrideva. «Mamma, guarda, guarda, sto in piedi da sola!» gridava Memba contenta. Ma il sole, dispettoso, si era allontanato di alcuni metri da Salim, e tornò a scaldare rabbioso. Per fortuna, Memba era una gazzella intelligente. Vide che Salim si era mossa, e andò a mettersi a riparo sotto di lei. Il sole tornò a spingere Salim, e la piccola Memba corse di nuovo sotto la nuvola, e si protesse con la sua ombra. E così un'altra, e un'altra, e un'altra volta ancora. Fino a quando, dopo un po', con tutto questo correre, le zampe di Memba si irrobustirono, e smisero di tremare. La gazzella non temeva più il sole, e sotto l'occhio vigile della mamma corse di qua e di là, felicissima. Allora la nuvola Salim salutò la sua amica, e prima di andarsene le promise che ogni tanto sarebbe tornata. Torna Salim, ho bisogno di te per giocare insieme, le disse Memba. E Salim fu certa che per qualcuno lei era necessaria.